Abbiamo giocato con una squadra che in questo momento è più forte di noi. Dispiace che abbiamo fatto degli errori che di solito non facciamo. Basta vedere il secondo gol, perché abbiamo preso il gol su una punizione dal limite nostro. Penso che loro hanno meritato la vittoria soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo magari l'occasione più olimpida abbiamo avuto noi. Nesseremo deciso di obiettivo, soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo avevamo le possibilità di uscire. Dispiace per la sconfitta con una squadra forte, però da martedì dovremmo pensare a migliorare ancora. Speriamo per la sconfitta, ma in seconda facciamo pensare per il secondo match. Come si spiega gli errori che abbiamo fatto. Nel calcio si sbaglia e soprattutto quando giochi con squadre forti, gli paghi questi errori. Il futbolo si è vero, ma quando si è vero, si è vero, si è vero. Sì, si è vero, 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 si è vero. Non mi piace parlare di queste cose dopo una sconfitta. Quindi non mi sembra giusto né corretto. Io ho questa squadra e devo cercare di migliorare questa. Poi il mercato in questo momento è chiuso, quindi è inutile parlare. Non mi chiamare, non mi chiamare, se ne sono corretto. Ma noi chiamare che tutto il campo si è razzato. E in questo momento il trasferno è razzato, non mi piaceva, cosa fare. Cosa sono le problemi in Lezky? È organizzare la squadra, l'organizzazione del gioco? Oggi, paradossalmente, ho avuto più occasioni di altre volte e non ho riuscito a fare gol. Noi dobbiamo migliorare sotto tutti gli punti di vista, fermo restando che non dobbiamo pigliare come metodo di paragone in questa partita, perché Ludo Gore è avanti a noi di qualche anno. Non c'è la stanchezza, ma di solito il secondo gol è contro una squadra forte fa sì che ti viene anche mentalmente il fatto di non farcela. Questo non è corretto, però è questo che è successo. Poi ci sono solo psicologicamente, e dopo il secondo gol è riuscito. Non è solo in tutto il secondo, ma in questo modo è successo. Mi ha cambiato, perché rischiava la seconda munizione, ma non è che l'ho sostituito, perché l'ha demeritato. Non sono stato un giovane, perché non è giusto, non è игрato bene. Grazie. 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 Grazie.